ciao bellezza bentornate su vaniglia chic tra due secondi ci sarà lo spacchettamento avon di campagna numero 5 con anteprima di campagna numero 6 e faremo una piccola piccola carrellata del catalogo numero 7 in anteprima ma dopo la sigla ben rientrate ragazze su vaniglia chic come avete potuto ascoltare dalla presigla questo è un piccolo spacchettamento di campagna numero 5 e andremo a vedere insieme anche il catalogo di campagna numero 7 ma molto molto velocemente allora inizio con mostrarvi i prodottini che ho preso alcune cose già le ho consegnate perché le clienti ovviamente dovevano partire per le vacanze quindi ho dovuto consegnare alcuni prodotti una matita di avontro per le sopracciglia nella tonalità soft black è una matita davvero molto buona questa di avontro ce l'ho anch'io in questa tonalità ma devo dire che per me è risultata leggermente leggermente scura cliente che mi ha ordinato questa matita in realtà è molto più scura di me per cui questo colore sicuramente andrà benissimo è una matita che ha il pettinino all'estremità davvero molto buona come matita e io generalmente prendo sempre la dark brown insomma ho voluto provare la soft black ma è risultata scura per me e vedevo di portarla a terra insomma questa è della cliente 7 euro e 5 poi ho voluto prendere questo prodotto per le sopracciglia questo l'ho voluto prendere per me al costo di 7 euro e 50 questo è nella tonalità dark brown è uno degli ultimi prodotti di avontro praticamente un prodotto per ridisegnare le sopracciglia con un pettinino in centro e il prodotto è in polvere il pennellino adesso andrò a farvi lo swatch dal colore si intravede già che abbastanza chiaro quindi per la mia tonalità di sopracciglia va più che bene adesso vi faccio lo swatch ragazze questa è la tonalità dark brown ed è abbastanza insomma soddisfacente per me anche perché a me non piacciono molto le sopracciglia molto molto ricalcate ridisegnate io sono più per la cosa un po più naturale ed è per questo che ho voluto prendere questo prodotto che insomma mi incuriosiva moltissimo 7 euro e 50 ordinata al costo di 4 euro e 50 un avon true glimmer stick diamond e praticamente una matita nera eyeliner nella tonalità appunto black di queste matite ne vendo veramente tantissime infatti ne ho ordinata più di una ma le ho dovute consegnare e quindi sono davvero ottime perché se sono waterproof quindi davvero si fissano in una maniera straordinaria non fanno l'effetto panda in special modo d'estate sono fantastiche durano davvero tantissime ore sugli occhi e sono nere intense ci sono varie tonalità di nero questa è la black bijou ma ce ne sono altre due per quanto riguarda le tonalità di nero 4 euro e 50 poi ho voluto prendere al costo di 4 euro e 99 lo spray per i piedi footwork questo lo spray praticamente per piedi e da anche da usare nelle scarpe e mio marito ci si trova benissimo e l'ha voluto di nuovo ordinare come ha voluto di nuovo ordinare questo spray per i piedi al pompelmo e basilico molto buono la linea footwork davvero fantastica e ancora lui ha voluto ordinare per se il il talco profumato appunto da usare per i piedi anche questo 4 e 99 poi c'era l'offerta per noi presentatrici ho voluto prendere una maschera per contornocchi questa è la coreana patch e una maschera lip mask sempre coreana per le labbra e poi poi ho voluto ordinare questi orecchini al costo di 8 euro e 99 sono carinissimi ragazzi adesso ve li faccio vedere da vicino davvero molto molto belli di bijou di avon ecco qui come potete vedere c'è un altro astuccio davvero molto carino dove vengono riposti e mi sono conosciuti tantissimo ragazze perché io amo questo genere amo i cerchi ecco qui guardate che carini ragazze ecco qui ragazzi guardate che carini stupendi sono costati 8 euro e 99 davvero belli belli sono semi cerchi con dei fiori stupendi belli belli veniamo all'anteprima di campagna numero 6 per ogni prodotto acquistato nel catalogo numero 6 si potrà acquistare questo orologio a 14 euro e 99 io l'ho preso in anteprima perché lo voglio regalare alla mia mamma che tra poco sarà il suo onomastico e quindi l'ho voluto prendere davvero molto bello ragazze adesso ve lo faccio vedere questa è la scatola si presenta davvero molto bene è ben pacchettato e questo ragazze è l'orologio bello bello ha il cinturino in silicone e il quadrante rosa champagne davvero molto carino questo orologio che potrete acquistare al posto di 14 euro e 99 semplicemente acquistando un qualsiasi prodotto dal catalogo 6 allora questo è quanto ragazze adesso andiamo a dare un'occhiata al catalogo di campagna numero 7 che ovviamente insomma è pieno pieno di offerte vediamo un attimo che cosa c'è di buono in questo catalogo allora ci saranno le tinte novità queste tinte molto molto interessanti all'olio di jojoba vitamina e olio di avocado e di cocco con azione idratante davvero fantastiche per l'estate bellissime al costo di 6 euro e 99 poi in questa pagina troviamo il fondotinta cremoso fintura in polvere di avontru e praticamente c'è l'offerta 2 a 15,90 mentre uno lo paghiamo 8,99 l'offerta è molto buona anche perché possiamo prendere due tonalità diverse risparmiando e perché no insomma con due tonalità diverse possiamo raggiungere poi la tonalità giusta per il nostro incarnato oppure insomma due persone diverse possono approfittare di questa offerta comprandone due a 15,90 euro e ancora abbiamo prodottini questi sono prodottini bronze e glow di avontru molto molto carini a 12,90 quindi abbiamo illuminanti 12,99 oppure due a scelta 21,90 abbiamo l'offerta sulle glimmer stick una 4,99 e due 7,90 e questa è un'ottima ottima offerta che esce spesso sui cataloghi i colori sono fantastici veramente bellissimi i colori delle matite di avontru cleaners sono le più vendute davvero perché come vi dicevo sono waterproof e quindi adattissime anche per l'estate e poi abbiamo due mascara a 13,90 della linea power stay con questo scopolino molto particolare oppure lo possiamo acquistare singolarmente a 7,99 e poi abbiamo due tinte power stay a 13,90 oppure una a 7,99 abbiamo gli smalti della linea avon pro color in 60 secondi sono ottimi 2 a 5 euro oppure uno solo a 2,99 ancora abbiamo la linea power stay per quanto riguarda eyeliner 5,50 bellissimi questi prodotti di power stay oppure la matita ombretto a 6,99 questi sono gli effetti della matita ombretto fantastica e anche dell'eyeliner con i colori che vedete qui a fianco fantastici questi prodotti di power stay un'offerta interessante in queste pagine appunto per ogni prodotto acquistato da pagina 18 a pagina 19 avremo in regalo un campioncino del nuovo fareway diva che io prenderò sicuramente che uscirà in campagna 8 quindi possiamo sentire in anteprima questa fragranza ci sono le palette fantastiche a 19,99 euro sono buonissime queste palette e poi abbiamo le matite della linea mark per le sopracciglia a 5,99 questa è quella con la punto obliqua molto buona e la classica matita sopracciglia con sfumino spazzolino avontru a 5,99 abbiamo il fondotinta avontru a 7,99 euro ottimo prezzo per un fondotinta davvero molto molto buono con una coprenza media piena fantastico questo fondotinta l'ho provato anch'io abbiamo tanti prodottini della linea power stay in offerta come il correttore a controllo a 6,99 vado veloce ragazze abbiamo la palettina viso define e scalp a 12,99 euro eccola qui bellissima e poi ci sono le varianti come quanto riguarda i colori e poi abbiamo il lip tattoo molto carino a 6,99 abbiamo i rossetti tutti in offerta ecco qui abbiamo le matite lip perfector pro line a 5,50 euro e abbiamo le tinte labbra effetto metallico a 6,99 insomma abbiamo tantissime offerte in questo catalogo 7 ragazze tutta la linea dei pennelli in offerta pennelli ottimi davvero meravigliosi specialmente quelli viso sono fantastici ma anche quelli per gli occhi tutti tutti in offerta ragazze e ancora tanti tanti prodotti della linea jelly collection che è una linea molto più sbarazzina molto più carina che spazia dagli illuminanti viso ai rossetti insomma al blush c'è un po' di tutto prodotti di color trend in particolare i rossetti completamente rinnovati nel packaging 3,50 euro per quanto riguarda i rossetti metallici e anche per quanto riguarda quelli matt fantastici i prodotti di color trend e ancora le tinte labbra delicious matta a 4,50 i balsamo labbra a 2,50 euro e i rossetti a lunga tenuta infiniti a 3,99 euro fantastici questi colori mamma mia che belli ragazze e ancora avremo altri prodottini di color trend abbiamo il mascara per ciglia e sopracciglia invisibile crush a 3,99 euro e ancora abbiamo il mascara multi crush a 4,99 euro le matite molto molto carine le matite ombretto a 4,99 euro carissime poi abbiamo il correttore perfect and hide a 3,50 euro sempre della color trend il fondotinta liquido fresh face a 4,99 euro e il fondotinta liquido real matte a 6,50 euro e ancora la cipria compatta real matte questa cipria è fantastica a 5,50 euro queste sono le tonalità light medium, medium tan e medium deep fantastica questa cipria e poi abbiamo un po' di prodottini di Enew che è una linea anti-età di cosmetici dunque vi mostro velocemente l'ultima parte del catalogo dove ci sono i profumi abbiamo il celebre de toilette e il celebre fresh in offerta a 10,99 euro e tutto da provare il nuovo celebre profumi de toilette a 12,99 euro alla rosa, al giglio e alla violetta come sapete io ho preso quello alla violetta e ve ne parlerò molto presto e poi abbiamo tanti profumi de toilette in offerta petite attitude, my attitude, peace of love e ancora abbiamo il secret attitude crash il secret attitude tutti a 7,99 abbiamo l'offerta plus 3 perceive a 33 euro questa è davvero ottima come offerta il perceive è fantastico il profumo è buonissimo e poi il packaging di questo profumo è assolutamente meraviglioso abbiamo in offerta i 3 profumi artistici vi ho parlato di questi profumi in un video che vi lascio su nelle schede li avremo in offerta 30 euro il patchouli indulgence il magnolia and fleur e l'irish fetish e sono profumi artistici ovviamente creati da nasi profumieri buonissimi ragazze e poi avremo in offerta anche le lozioni corpo quindi una lozione corpo uno spray per il corpo a scelta a 1,99 per ogni fragranza acquistata da pagina 194 a 201 interessantissimo anche questi prodotti poi abbiamo Avon History a 16,99 euro Avon Luminata a 16,99 euro e poi abbiamo il Pur Blanca interessantissimo a 10,99 euro e il Soft Mask Deluxe con note di cioccolato mughetto e vaniglia a 10,99 euro e avremo ancora in offerta il Rail Flower Night Orchid a 16,99 euro il Rail Gold a 16,99 euro e ancora avremo in offerta il Fireway Classico a 16,99 euro e il Fireway Rebel sempre a 16,99 euro avremo una fragranza unisex e queste fragranze unisex costeranno 19,99 euro abbiamo Avon Attraction One Fresh e Avon Attraction One Intense con note olfattive molto interessanti quella Intense abbiamo il Cardamomo il Fiore d'Arancio il Legno di Sandalo mentre l'Avon Attraction One Fresh abbiamo il Fico Zafferano e il Legno di Sandalo interessantissime queste queste fragranze ragazzi questo è quanto vi ho sfogliato velocemente il catalogo 7 spero che lo spacchettamento Avon vi sia piaciuto lasciatemi un like un commento fatemi sapere che cosa avete acquistato dalla campagna 5 che cosa acquisterete dalle prossime campagne datemi consigli sui prodotti Avon perché insomma anche se sono consulente non ho ancora provato tutto vi mando un grande abbraccio vi aspetto alla prossima volta fatele brave perché a fare la cattiva ci sono già io e un grande grande bacio da Vanilla Chic ciao 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 ciao